Pillole di non solo suoni, la storia della musica, passa da noi. Beh, ritrovati in questo inizio di settimana nella quale inevitabilmente si parlerà ancora di Sanremo, se ne sta parlando, perché l'onda lunga del festival, si sa, è proprio lunga. E allora anche noi vogliamo in qualche modo dedicare un ultimo spazio speciale alla Kermess, con una puntata nella quale però vogliamo parlare di quegli artisti che a Sanremo sono stati, sì, ma una sola volta. La classifica dei primi dieci, ritenuti big, la stilata, la rivista Rolling Stones, riguardo quei personaggi che sono saliti sul palco dell'Ariston dalla fine degli anni 80 ad oggi come concorrenti, ma una volta sola, perché, come invece abbiamo visto anche in questa edizione appena conclusa, spesso certi nomi tornano e più volte. In questo caso, se lo hanno fatto, è stato soltanto in veste di ospiti. Iniziamo allora da Giovanotti, nel 1989. Va detto che quest'anno è apparso, sì, quest'anno è appena concluso, ma come autore della canzone di Gianni Morandi, Apri tutte le porte, mentre nell'89 aveva partecipato con un proprio singolo intitolato Vasco, arrivando quinto a Sanremo, sì, ma secondo nella classifica dei singoli più venduti. Nel 2000, invece, si presentò sul palco dell'Ariston come ospite insieme a Carlinos Brown, con l'inedita Cancella il debito, con la quale invitava a questo gesto i politici nei confronti dei paesi più poveri. Beh, va detto che l'allora presidente del consiglio, Massimo D'Alema, invitò lui e poi Bono degli U2 a parlarne a Palazzo Chigi. Altri big ipù nel 1990, quando vinsero con Uomini Soli, pezzo destinato a diventare un must della band e anche un evergreen. Poi tornarono all'Ariston nel 2016 per la reunion che chiuse la carriera, oppure in gara, certamente, ma da solisti. Per esempio, Facchinetti nel 2007 con il figlio Francesco e il brano Vivere Normale. Poi nel 2018 con Riccardo Fogli e Il Segreto del Tempo. Nella stessa edizione Red Canzian, diciamo che fu anche lui concorrente con ognuno al suo racconto. Ed eccoci a Riccardo Cocciante, 1991, quando vinse con Se Stiamo Insieme, di fatto il secondo singolo più venduto di quell'anno. Ma anche ricordato che Cocciante tornò a Sanremo nel 2009 come autore e ospite di Filippo Perbellini, fra le nuove proposte. E poi nel 2019 eseguendo Bella da Notre-Dame de Paris e Margherita. Ecco poi Caparezza nel 1997, parliamo quindi di Michele Salvemini all'epoca Mickey Mix che nell'anno della vittoria dei Jalice era una delle nuove proposte con E la notte se ne va. Vinsero però Paola e Chiara con amici come prima. E poi la volta di una band come Subsonica nel 2000 con Tutti i miei sbagli. Nel 2005 invece toccò Enegramaro esordire tra le nuove proposte dove però furono eliminati. L'anno scorso sono tornati sul palco dell'Ariston ma da ospiti. Nel 2009 debutano invece gli After Hours, la band di Manuel Agnelli che si aggiudicò il premio della critica Mia Martini. Agnelli poi è risalito sul palco dell'Ariston altre due volte ma senza band e non in gara. La prima nella serata dei duetti del 2019 intonando Argento Vivo insieme a Daniele Silvestri. E la seconda indimenticabile nel 2021 come ospite dei Maneskin che naturalmente lui stesso aveva lanciato come giudice di X Factor durante la serata delle cover sulle note di Amandoti dei CCCP. Ed eccoci al 2011 con Franco Battiato che invece era stato ospite nel 1999. Nel 2012 parteciparono anche i Marrene Kunz eliminati però dalla fase finale ma vincendo il premio della sala stampa e lo speciale Viva l'Italia nel mondo per la loro cover. Nel 2020 arriva anche Piero Pelù il leader dei Litfiba che era al suo primo Sanremo quello di Amadeus con Gigante dedicata al nipote. Poi a sorpresa arrivò al secondo posto nella classifica parziale. Alla fine invece fu quinto e fece parlare di sé per il cosiddetto furto della borsetta una signora in platea. Nella serata delle cover invece cantò Cuore Matto. Per finire quindi abbiamo deciso di proporvi uno degli artisti citati ed esattamente il primo. Giovanotti con la sua Vasco singolo di lancio dell'album La Mia Moto. Il pezzo firmato dallo stesso Giovanotti insieme a Claudio Cecchetto e Luca Cerosimo rimase per due settimane consecutive in vetta alle classifiche di vendita.